E ci occupiamo adesso di turismo, finalmente un ponte all'insegna del tutto esaurito sull'isola d'Ischia, dove sono arrivati turisti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Non sono mancati però dei disagi a partire dai collegamenti marittimi. Facciamo il punto nel servizio di Gaetano Ferrandino. Un ponte, il primo della stagione 2012, davvero da leccarsi i baffi. Sull'isola d'Ischia l'afflusso di turisti è stato finalmente degno di una località che ospita annualmente oltre 4 milioni di vacanzieri. Dati e numeri incoraggianti, insomma, dopo che le festività pasquali erano trascorse, contrariamente alle previsioni della vigilia, con più ombre che luci. I primi caldi, decisamente fuori stagione, hanno fatto sì che venissero prese d'assalto le spiagge per un antipasto d'estate. Ma hanno fatto registrare un notevole afflusso di pubblico anche i parchi e gli stabilimenti termali. Al limite dell'overbooking, le strutture ricettive del territorio, il flusso nelle zone calde come la centralissima via Roma e l'annesso Corso Vittoria Colonna e il borgo antico di Ischiaponte fanno tirare un sospiro di sollievo anche alle attività commerciali, che fino a questo momento se la passavano davvero male. Tra le criticità, da sottolineare ancora una volta quella del traffico. L'impressione è che l'Isola Verde, senza una politica e una gestione unitaria dei sei comuni, difficilmente riuscirà a porre un'argine. Mentre, decisamente fallimentare, si è rivelato l'insieme dei collegamenti marittimi dai per la terraferma, con il molo Beverello e la sua struttura, che ancora una volta hanno evidenziato una serie di limiti al di là della decenza. In più, ci si sono messe anche le compagnie di navigazione, che invece di implementare le corse, hanno ben pensato di ridurle. In particolare, l'annullamento last minute di alcuni collegamenti ha costretto diversi turisti ad un'attesa estenuante e durata diverse ore prima di imbarcarsi alla volta di Ischia o Procida. Di certo non il modo migliore per iniziare una vacanza. Le polemiche che ne sono conseguite sono destinate a far discutere. Le imminenti elezioni amministrative in quattro comuni su sei sembrano aver distratto l'attenzione dal tavolo di lavoro tra amministrazioni, assessorato regionale e trasporti ed armatori. Un tavolo voluto dal prefetto e che avrebbe dovuto sortire effetti già in questi giorni. Avrebbe, appunto, invece le cose sono andate diversamente.